E in effetti la prima parte della gara sembra proporre due squadre non al massimo delle energie fisiche e nervose. Svettano le opposte difese e il gioco viene espresso soprattutto a centrocampo con la Juventus in grado talvolta di avvicinarsi pericolosamente a Zenga. Tardelli è l'anima degli attacchi bianconeri. Collovati devia una sua incornata. Arrossi e Briaschi stoppati sono centrocampisti e difensori. Vedi Tardelli e Cabrini a inseguire il gol. L'Inter non attende passivamente il suo momento e passa nella prima circostanza in cui riesce a prodursi in profondità con Altobelli. E' un malinteso fra Tardelli e Caricola lasciare libero il centro avanti. La Juventus reagisce e agguanta il pareggio con Tardelli la cui conclusione viene respinta oltre la linea da Marini. Previsione azzeccata anche se l'avvio della ripresa evidenzia il forcing dell'Inter. Il palo è di Marini. Trapattoni esclude Rossi per Vignola e sceglie la carta del contropiede mentre Rummenigge dimostra di non accettare il pareggio. L'Inter fa il Colonia e consente alla Juventus di esaltarsi nel gioco di rimessa. Boniek sigla il 2 a 1. Tardelli calza i panni di Platini, inventa un lancio perfetto e chiama Boniek al ruolo di equilibrista per resistere all'intervento di Baresi. La Juventus insiste. Ferri ferma Briaschi come può. La partita si chiude quando il quintetto Cabrini, Vignola, Boniek e Platini, Briaschi suona il concerto dei piedi buoni e confezione il più esemplare dei gol capitalizzando lo sbilanciamento avversario. Trapattoni dirige in piedi l'orchestra e assiste allo storico momento magico in cui forse il Verona abbraccia lo scudetto. Da questo orecchio Zenga per ora non ci sente.